Antivirali, guidorasi, affidarne la distribuzione alle farmacie. Covid, l'OMS avverte, senza copertura vaccinale, aumento infezioni e nuove varianti in tutti i paesi. Prescrizione e preparazione di galenici magistrali con DEA, Sileri ne ribadisce il divieto per medici e farmacisti. Farmacisti ucraini, possibilità di esercizio temporaneo della professione nelle farmacie italiane. Buongiorno e ben trovati in una nuova edizione del telegiornale di Federpharma Channel. Nel trattamento del Covid-19, gli antivirali rappresentano sicuramente un'arma terapeutica importante per evitare l'aggravarsi delle condizioni dei pazienti e l'aumentare della pressione sugli ospedali. Nonostante la loro comprovata efficacia, ad oggi il loro utilizzo è molto limitato. L'iter prescrittivo e la distribuzione, al momento consentita solo presso le farmacie ospedaliere, non aiutano a semplificare le cose. Sostiene in un'intervista a Quotidiano Sanità Guido Rasi, ex direttore generale di EMA, consulente del commissario all'emergenza Francesco Paolo Figliolo. Abbiamo una rete capillare di medici, di famiglia e farmacie sul territorio. Coinvolgerla sarebbe fondamentale, sostiene Rasi. Federpharma conferma la disponibilità delle farmacie e la dispensazione sul territorio di questi farmaci. In un'ottica di ottimizzazione dell'assistenza territoriale, Roberto Tobia, segretario nazionale di Federpharma, dichiara che bisognerà che questi farmaci transitino anche dalle farmacie con i meccanismi della distribuzione per conto. Questo permetterà notevoli risparmi sociali e più facilità per i pazienti. Alcuni paesi stanno valutando l'opportunità della somministrazione della quarta dose di vaccino anti-Covid, ma un terzo della popolazione del mondo non ha ricevuto nemmeno la prima dose. Lo sottolinea il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Ghebrihesus. Vogliamo tutti uscire dalla pandemia, ma non importa quanto lo desideriamo, non è finita, ha affermato il direttore dell'OMS. L'obiettivo resta quello di vaccinare il 70% della popolazione di ogni paese entro la metà del 2022, fa sapere l'OMS. Il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, ha ribadito in Commissione Sanità al Senato che l'uso sistemico del DEA è ormai considerato obsoleto anche dall'AIFA, data la presenza di alternative più sicure ed efficaci, tra le quali la terapia ormonale sostitutiva. Il decreto ministeriale del 1 giugno del 2021 aveva vietato ai medici di prescrivere e ai farmacisti di allestire preparazioni galeniche contenenti le sostanze classificate come steroidi, anabolizzanti e androgeni, escludendo però dall'ambito di applicazione le preparazioni galeniche contenenti testosterone o nandrolone. I farmacisti ucraini potranno esercitare temporaneamente la propria professione in Italia fino al 4 marzo 2023. Anche le farmacie potranno proporre l'apporto di lavoro a tutti i farmacisti ucraini dotati di passaporto europeo delle qualifiche professionali. In una circolare dedicata all'argomento, Federfarma precisa che il governo italiano, all'interno del decreto contenente le misure per fronteggiare gli effetti economici ed umanitari della crisi ucraina, ha deciso di dare l'opportunità ai professionisti sanitari, con titolo conseguito in Ucraina, di poter temporaneamente operare sul territorio italiano. Questa era la nostra ultima notizia, grazie per averci seguito. L'appuntamento con la nuova edizione del telegiornale di Federfarma Channel e per domani, buona giornata.